Buon salve raga da me e da Aramis, mio gattone, adesso lo faccio vedere, sì, mio gatto che ha più vitalità di me, devo dire, ed altro lui è un gatto di strada, però diciamo che spesso sta qui nonostante la mia allergia, che tra poco potrei morire con un labbro gonfio, gli occhi abbuffati a palla, però lasciamo perdere. Volevo fare un video dove vi aggiornavo un po' di cosine, quello che non è successo e tutto il resto, e eccoci qui, ha tagliato i capelli per l'ennesima volta e odio questa cosa perché ce l'avevo lunghissima, quando mi hanno tagliato non riesco più a farmi li gris, speriamo che ritornino alla lunghezza di prima, questo è l'ultimo dei miei problemi del periodo perché è un periodo abbastanza complesso, lasciando stare tutte quelle rotture di palle con il mio ex fidanzato, perché ne parliamo proprio, ce la prendiamo e buttiamolo via come se fosse una sacchettina della munnizia, diciamo se a qualcuno interessa faccio un po' più un video sulla storia che ho vissuto, ce la voglio fare sempre i discorsi su di lui, però diciamo se può aiutarvi a chi sta affrontando un percorso con una persona tendenzialmente borderline narcisista, perché sono persone che comunque tu riesci a capire dopo molto molto tempo perché sono bravi a nascondere le cose, quindi posso raccontarvi quello che mi è successo se vi interessa. Magari se si può aiutare qualcuno che sta in una stessa situazione perché non è facile uscirne e non è facile riprendersi anche dopo perché è una bella ammazzata, posso assicurarvi che a livello psicologico è devastante. Andando avanti su questa cosa, non contenta, in questo anno bellissimo che è il 2020, oltre al suo simpatico coronavirus che ci ha rotto un po' le palle a tutti, io ho scoperto anche un'altra malattia quest'anno che ho scoperto di avere endometriosi, anche di questo se volete vi faccio un video a parte, è una malattia abbastanza invalidante a livello ginecologico che ho sospettato di avere da tanti 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 anni e fortunatamente ho scoperto di non essere pazza, ho scoperto di non avere problemi psicologici ma avevo una malattia vera e propria che avanzava sempre di più e che è abbastanza invalidante, infatti ci sono delle rinunce che devo fare ogni tanto perché molte cose non le posso mangiare e questa cosa mi rende molto nervosa. A parte questo sono contenta perché fino a me ho imparato anche a sfanculare le persone, perché tante volte nella mia vita tendevo sempre un po' a accantonare i problemi e magari a scappare dalle cose, invece diciamo crescendo ho capito un po' che anche attraverso questa esperienza di merda mi sono messa un po' a contatto con me stessa perché poi come se non bastasse lui anche delle amicizie si sono rivelate una merda e quindi mi hanno dato il modo di riflettere su me stessa, sulle mie scelte e anche di prendere di petto queste situazioni e di mandare a fanculo chi mi stesse a creare negatività nella mia vita perché diciamo che ci sono tanti 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 problemi e altri problemi che arriveranno, giustamente sono andata a un punto che se una persona non ti fa stare bene che sia amica che sia amore, devi mandarla via perché ci sono troppi problemi, non ti puoi infelicitare per ogni cosa quindi l'importante è cercare di stare bene. Ho toccato veramente il fondo tante e tante volte, questa volta veramente tanto mi sono vista veramente avvilita perché ovviamente toccare le tue parti più profonde e andare a scontrarti un po' con i vecchi traumi perché comunque ho dovuto toccare veramente con mano le cose che ho passato, anche sai la situazione del bullismo che magari non avevo spiegato in casa, questa malattia che mi ha portato a una forma d'ansia in tutti questi anni che poi più che ansia era una specie di depressione che tu non riesci a vivere normalmente per tante problematiche e poi ti senti un po' incompreso, quindi è questo. Perciò io iniziai anche a fare video inizialmente perché trovavo un po' una valvola di sfogo che ho lasciato un po' in questo periodo perché quando poi ho conosciuto questa persona mi hanno entrato a tal punto da farmi perdere anche le mie passioni e da farmi chiudere, da allontanarmi da tutto persino da uno schermo perché comunque tendeva da voler avere tutta la concentrazione su se stessa essendo appunto narcisista, egoistico e tutto il resto appreso. Quindi ragazzi posso dire di aver passato proprio una brutta esperienza, dei brutti anni perché è stata in seguito a un lutto che ho avuto in famiglia, è stata in escalation del merda. Però posso dire che da tutte queste situazioni almeno ho cercato di conoscere meglio me stessa, di imparare un pochettino ad amarmi perché su tante cose mi sono sempre un po' distrutta, sono stata la prima nemica di me stessa. Diciamo che a volte ho avuto veramente, avrei voluto appunto forse qualcosa di forte che mi trascinasse su dal baratro che nominavo sempre in tanti anni da quando ero più piccolino, però alla fine la cia cosa è più bella che è tirarti tu da solo, anche se è molto molto faticoso. E poi vabbè oltre a questo la cosa bella appunto è che ho ritrovato delle vecchie amicizie che avevo perso, cioè perché magari i rapporti che avevo tagliato, quelli là giusti negli anni poi ho capito che potevo recuperarli e che magari potevo mettere la pietra sopra a cose che erano successe anni e anni prima. Invece i rapporti nuovi che avevo conosciuto, alcuni mi sono notata veramente bene, come dicevo anche nell'altro video l'amica mi ha fatto amicizia con l'ex del mio ex fidanzato, e quindi diciamo è stata veramente una bella scoperta, come anche quest'altro mio amico che è decoratore, oppure come anche delle amicizie virtuali che io ho avuto, soprattutto nel periodo bruttissimo del mio ex fidanzato, io ho un mio amico del nord Italia che non l'ho mai conosciuto, che però diciamo mi è stato molto vicino e quindi cioè io apprezzo questi gesti e non ti senti mai sola effettivamente. Io cercavo tanto magari di parlare nei video, mi piaceva anche questo contatto con gli altri, ho abbandonato un po' il canale appunto per queste motivazioni, infatti poi ho visto drasticamente scendere quasi parecchi fallover che avevo, ma è stata un po' bruttina come cosa. E niente, ragazzi, vogliamo sapere un po' di cazzi di mia, tranquillamente vi faccio dei video a parte.